Il pubblico deve vedere e questa volta passarono, li sentiamo, allora ci affacciamo alla finestra e li vediamo, parciano le catture. Ma i panni mentali della persona che faceva la loro tappa? De loro? Sì, sì. Lui mi dice che si spara, e io scego, e io scego, e tu hai la mia vita, e io scego, e tu hai Grazie a tutti.